Ha fatto tappa a Nuo il camper del progetto Camineras 2.0, un'iniziativa della Giunta regionale attivata nel 2016 che intende ridurre le distanze, anche fisiche, tra la burocrazia regionale e i cittadini, andandoli ad incontrare nei luoghi di residenza. La postazione di Camineras 2.0 sarà attiva in Piazza Italia fino a domani. Per i cittadini è l'opportunità di chiedere informazioni su bandi e progetti regionali e comunitari, ma anche esprimere la propria opinione, fare critiche o suggerire soluzioni. Oggi ha fatto tappa a Nuo il progetto Camineras 2.0. Qual è l'obiettivo, quali le funzioni che voi esplicate sul territorio? Camineras è il 36esimo ufficio della Regione Sardegna. La Regione Sardegna è organizzata con una rete di uffici di relazioni con il pubblico. Camineras ha la particolarità di essere un ufficio che va tra la gente e verso la gente. E in più ha la particolarità, oltre di attivare tutti i servizi che noi eroghiamo negli uffici di relazioni con il pubblico quotidianamente, la particolarità di ascoltare il cittadino. Quindi qualsiasi cittadino, oltre a fruire i servizi attraverso Camineras, può anche chiedere di avere degli altri, criticare le attività della Regione e esprimere un parere sincero, che sarà per noi un elemento di miglioramento, di riflessione, per erogare un servizio sempre più adatto e vicino al cittadino. Quanto tempo rimarrete a Nuo? Staremo tre giorni, stiamo seguendo un progetto eccezionale, che vede coinvolti 200 coristi per la prima volta nella storia della Sardegna, direi un progetto di livello internazionale, che noi auspichiamo porterà, non poto reposare, a diventare l'inno della Regione Sardegna. L'ospicio ci crediamo fortemente, siamo vicini alla città e a quelli che hanno organizzato, in particolare Ignazio Corrias, che è l'artefice di questo progetto importante e quindi era doveroso per noi esserci.